a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e come avete capito dal titolo questa è un'altra collaborazione da con l'azienda bornpretty e mi hanno inviato vari prodotti mi hanno inviato cinque prodotti se non erro poi ho qualche tip perché mi pare che se non erano mandato quattro colori o tre non mi ricordo comunque eccoli qua poi dopo prendiamo sedere insieme allora la bustina ovviamente se presenta così qua c'è sta adesso la mia via e tutto poi dentro i pacchettini comunque erano tutti impacchettati con altro tipo di carta quindi tutte le cose sono impacchettate bene adesso non fa tiriamo fuori il tutto ok perfetto allora questa è un'altra collaborazione da parte di bornpretty e adesso vi faccio vedere prima le cosine che loro mi hanno inviato allora partiamo con questo prodottino qua ve lo faccio vedere la fine perché molto molto interessante allora intanto partiamo da questo prodottino qua allora questo qui si chiama solid nail tips eccolo qua fatto in questo modo vedete si chiama solid nail tips gel questo dovrebbe essere se non erro per attaccare praticamente le unghie finte quando attaccate con le unghie finte non fate apposta che dopo utilizzate l'acrilico sopra oppure il gel no come tipo dual form ecco e questa è una specie di colla credo solid nail tips non lo so quando osca è durissimo come potete vedere se molto duro e adesso non so questo come funziona perché loro gli avevo detto se questo prodotto non me lo mandavano invece me l'hanno mandato uguale perché io ragazzi non uso unghie finte neanche le due forme eccetera eccetera io uso solo cartine basta insomma per allungare l'unghia no per fare allungamenti sapete chiuso solo le cartine due form non ho mai provate non è che c'è così tanto interesse da provarle sinceramente anche se si può fare prima però mi piace di più fare le cose proprio più a mano a mano libera diciamo così non già quasi pronte e io loro sinceramente io avevo detto che questo prodottino non mi interessava perché l'ho detto loro che non uso tip eccetera eccetera però me l'hanno mandato lo stesso non so per quale motivo forse si sono scordati che loro lo sapevano che non dovevo mandare questo prodotto ma se vede che mi hanno mandato uguale se vede che non ci hanno pensato e comunque insomma questo qui e poi ovviamente io sotto all'info box vi lascerò il link di ogni singolo prodotto ok quindi mi metterò il link di questo poi almeno quando andate a vedere vedete voi meglio la descrizione di cosa si tratta di come si usa eccetera eccetera lo vedete poi meglio lì nella descrizione sul sito quindi come sempre sotto l'info box andata a guardare mi raccomando che vi lascio i link di ogni singolo prodotto così ci cliccate vi porta direttamente al sito ma direttamente al prodotto stesso che voi avete scelto insomma che avete cliccato ok andiamo avanti loro mi hanno inviato quanti 12 questo dovrebbe essere un colore si tre colorini adesso vi faccio vedere poi andiamo a stendere insieme allora mi hanno inviato questo bellissimo colore questo qui il codice se volete fare un fermo immagine è veramente bello è un bel rosso proprio natale anche se adesso ormai periodo quasi finito però ancora si può utilizzare benissimo per l'inverno e ragazze è spettacolare questo colore è una bomba e cerco di conviene che faccio così c'è ragazze è veramente stupendo poi non so come sarà su tip ma è veramente bello questo rosso mi hanno mandato questa volta dei colori veramente belli questo è un bel rosso bello vivo pare a queste pagliette grosse e piccoline ai micro brillantini rossi le pagliette grosse come potete vedere belle grandini molto bello questo colore quindi questi poi adesso li faccio vedere così poi dopo li andiamo ad stendere insieme lasciamo qua andiamo a prendere prendere andiamo a prendere quest'altro sempre scopo il barattolino nero sempre calini i loro pack questo è l'altro codice di quest'altro colore ed è questo grigetto qua in videocamera un fa più scuro più blu pare allora ed è questo bellissimo grigetto avevo lo fa leggermente più scuro ma un po più chiarino sicuramente ci sarà una punta di blu sicuro molto molto bello è veramente bello come come tonalità di grigio poi passiamo all'ultimo colorino si mi hanno avviato quindi tre colori ok quindi una tip lo preso in più ma fa niente abbiamo questo qui che ragazze queste stupendo l'ho visto già prima questo magnetiche quindi dovrebbe essere con la calamita in teoria ragazzi è stupendo sul colore c'è augurata che roba è di base grigio come potete vedere ma è olografico tipo unicorno arcobaleno insomma sta roba qua vedete riflessi e questo sicuramente sarà con la calamità questi sono i tre colorini chiamano inviato adesso arriviamo al prodotto bellissimo che ha questo questo qui il codicino ve lo faccio un attimo vedere è molto bene tutto su denso tra un denso liquido una via di mezzo un intermedio ed è questo trasparentino qua ed è questo trasparentino qua molto 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 bello allora adesso vi dico le caratteristiche di questo praticamente questa boccettina qua allora questo qui è da 5 grammi questo questo invece è da 7 ml non so se lo proveremo insieme praticamente questo qui è un gel otto in uno fa otto cose sì io perché lì ce non sono perché lo scritto in un foglietto perché sinceramente dopo non mi ricordavo il tutto ora praticamente questo qui lo potete utilizzare come base gel quindi voi preparate lunghi a tutto quanto mettete la base l'unica naturale poi mettete credo qualsiasi gel vada bene credo insomma sia per copertura oppure come ricostruzione quindi già il base va più che bene quindi questo lo potete utilizzare come base gel poi lo potete utilizzare come colla per unghie anche per le due al form queste cosine qua o le tip insomma per incolarvi le unghie come water color che poi infatti anzi ho fatto bene a prendere quattro tip così dopo lo andiamo a provare come water color quindi come l'effetto marmo che potete fare queste cose qua poi adatto per fare piccoli allungamenti per miscelare i colori quindi che ne so prendo un coperchietto dentro metto una goccina di questo metto il colore lo miscelo potete fare anche le varie sfumature che poi utilizzo molto per quando faccio anche le nail art che devo sfumare il colore io utilizzo sempre un lucido un gloss senza dispersione posso utilizzare benissimo anche questo insomma in più anche per applicare i strassini c'è fa tutto insomma praticamente questo gel qua bellissimo ok adesso andiamo a stendere i tre colorini e poi infine andiamo a provare quello andiamo a fare l'effetto quello effetto marmo effetto marmo scusatemi water color così vediamo poi come si comporta eccomi qua andiamo a stendere il primo colore che questo qui bellissimo questo bellissimo rosso che sono curiosa di vedere come si comporta e come sinceramente riesco a vedere proprio come si comporta wow mamma mia veramente bello questo adesso non so se rimane così trasparentino adesso vediamo con la secco la seconda passata come vedete almeno meglio che fa ok così vedete meglio adesso vi stavo dicendo non so se questo anche con la seconda passata rimane trasparentino così perché ovviamente se rimane una cosa trasparentina così vi consiglio sotto di mettere un colore quindi un rosso classico a monocolore e poi sopra questo poi vediamo con la seconda passata se la però anche così è bello comunque su non lo vuole una cosa ha fatto tipo una striscetta così tipo universo comunque non alla fine questo lo può utilizzare anche sotto col colore del gel e lascia il gel per esempio senza mettere colore sotto e usa il rosso così volendo utilizzarlo anche in questo modo o se no mettete un rosso sotto vediamo con la seconda passata se trasparentino allora voi così un colore sotto se no un'altra passata di questo e sta a posto ok andiamo avanti adesso non ho messo in lampada ma non va da catalizzare sbatto un pochino andiamo ad applicare questo grigetto che questo pure sa che stupendo sto colore andiamo a vedere wow ma quant'è coprente con la prima passata niente scusatemi veramente bello wow prima passata ragazza è veramente veramente bello voi si lo fa leggermente più scuro ma non di tanto però un po più chiarino ok quest'altro dentro allora adesso dobbiamo utilizzare questo bellissimo colore che è quello lì che vedete prima quello con la calamità allora andiamo provare questo ah ok questo sì con la calamità per forza sicuramente dopo farà l'effetto wow comunque veramente bello qua non si nota tanto ma anch'io non li vedo quello lo grafico sicuramente dopo con la calamità sì dopo andiamo fare la seconda passata andiamo ad applicare la calamità e se andiamo a mettere a catalizzare ok eccomi qua andiamo a fare la seconda passata vediamo questo poi ok questo sì ve lo consiglio con un rosso sotto se la cliente così non piace che rimane un po' trasparentino mettete sotto comunque un rosso e passa la paura e via ok vado a prendere quest'altro grigetto andiamo a fare una seconda passata anche se non è che c'è tanto bisogno però sapete il mio vizio dare due passate è bellissimo sto colore bello mettiamo dentro ok adesso proviamo questo qui poi con la calamità vediamo come si comporta quindi vado a fare una seconda passata magnetico quindi dovrebbe essere quelli che fai andiamo a vedere proviamo sì ho toccato porca miseria aspettate eccolo qua non so se lo potete percepire non si nota tanto rimane molto ecco viene a fare la riga meno vedete anche voi meglio eccola qua allora non si nota tanto è però è molto carino dai d'effetto molto delicato sicuramente sotto dovrei mettere una base nera perché di solito non la metto mai sui che dai sicuramente andrà una base nera sotto però è molto molto carino mi piace bello andiamo le mette a catalizzare tutti i tre insieme qua ragazzi allora questi qui sono i colori stesi ho messo anche il lucido quindi fatto due passate e lucidato questo è il bellissimo rosso come potete vedere il grigetto e quest'altro che tai eccoli qua molto molto belli ho provato sulla tip che ho voluto provare ho messo sotto su un'altra tip che adesso vi faccio vedere ho messo base nera ho dato solo una passata catalizzare poi ho messo questo sopra che infatti se vede di più è usato la calameta e guardate infatti che spettacolo adesso sì che si vede pare tipo universo è veramente bello poi fa quando fate il che hai e fa la riga poi qua vedete come fa questo effetto tutto così particolare anche su dietro è veramente veramente bello ragazzi è stupendo pare la scia pare tipo la via latte a te giuro te lo spazio invece qua in versioni bianche metterò tutte e due così le clienti poi lo faccio vedere c'è chi può essere vuole versione così bianco sotto diciamo come fosse commesso il bianco sotto e oppure col nero veramente veramente bello sto colore mi piace ok questi qui comunque erano i colori eccoli qua adesso io vado a prendere andiamo a vedere se fa questo suo lavoro ovviamente ve lo posso mostrare solo su una cosa quindi c'è nel senso non è che adesso posso mettere qua la base ricostruzione eccetera eccetera lo uso come per fare water color così vediamo questo come si comporta adesso ho preso uno smalto semi permanente così alla cavolo anzi visto che ci siamo usiamo questo smalto qui grigio dai vediamo come si comporta con lo stesso prodotto diciamo così adesso prendo il pennellino a punta fine ok adesso io vado a stendere il prodotto su tutta l'unghia ripeto dove potete utilizzare per tantissime cose come già vi ho detto prima ok vediamo se fa l'effetto water color adesso prendo un po' di colore aiuto aspettate eh con tracciata ci sono ha messo un po' troppo comunque si è già guardate qui il cerchio perfetto già si espande ovviamente coi semi permanenti sono meglio è perfetto ragazze adesso sto facendo delle cose a cavolo eh tipo effetto marmo però comunque si espande molto molto bene come avete visto potete fare anche l'effetto tartaruga tipo come ho fatto la pallina qua più o meno ma perché non metta fuoco oggi non c'è intenzione allora aspettate un attimo ok pare però dai comunque si spostate come vi pare comunque l'effetto l'effetto lo fa sono mettonati muovià e niente ragazzi questi qui quindi sono stati i prodottini che mi ha inviato brontetti questi quanti ne è 3 4 questi 5 prodottini eccoli qua qui ci sono anche le tip così vedete meglio dei colori ancora qua e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice in su io ringrazio ancora l'azienda brontetti eh che mi danno questa possibilità insomma di collaborare con loro anche perché hanno comunque dei prodotti veramente veramente carini poi quando sarà che mi dovrò far le unghie molto più in là andremo utilizzare insieme questo prodottino qui che ripeto è 8 in 1 quindi potete attaccare i strassini potete usare come colla su tip come base gel water color come abbiamo fatto noi qua lo metto qui e piccoli allungamenti poi mettete in micelare i colori insieme e anche applicare i strass quindi è molto molto importante questo prodottino insomma io sotto all'info box vi lascio come sempre i link di ogni singolo prodotto è andata a dare un'occhiata mi raccomando io con questo niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao